Buon inizio di settimana a tutti, una settimana importante che porterà Douglas Lewis, il prossimo colpo juventino, a sostenere le visite mediche per conto della Juventus direttamente negli States, in quanto è impegnata in Coppa America con il Brasile. Ovviamente le visite mediche verranno effettuate anche da Ealing ed Enzo Barrenecea per conto dell'Aston Villa, operazione definita in ogni minimo dettaglio sabato nel tardo pomeriggio, e quindi tutto confermato, tutto procede secondo tabella, archiviate le visite mediche, Douglas Lewis si unirà alla vecchia signora con un contratto fino al 2029, un contratto da circa 4 milioni netti base e più dovrebbe essere uno di bonus. Quindi si vociferava che all'inizio Douglas Lewis avesse chiesto chi per lui circa 6 milioni netti e alla fine della fiera anche da questo punto di vista mi sembra che la Juventus l'abbia chiusa bene perché credo che questo stipendio poi sposi anche il valore in sé del calciatore, che è molto forte. Ricordo che non si possono più usufruire dei benefici del decreto crescita per i giocatori che arrivano dall'estero, il discorso vale per i contratti in essere, vedi quello di Adriana Rabiò che se dovesse accettare di rimanere alla Juventus ecco si manterebbero vivi in questo caso i benefici dello stesso decreto. Su Douglas abbiamo detto tutto, ma proprio tutto, e quindi ora attendiamo il giorno preciso in settimana legato alle visite. Ricordiamo che poi c'è anche il Brasile che gioca, quindi bisogna rispettare totalmente la nazionale verde-oro e credo che lo stesso Douglas, sì, è normale che la testa poi sia rivolta alla tua prossima avventura professionale perché devi sbrigare dei tecnicismi immediati, ma la maglia del Brasile in generale difendere i colori della nazionale credo che per un calciatore sia sempre il massimo e quindi sicuramente la sua attenzione sarà anche focalizzata su questo torneo. Abbiamo parlato di Rabiò, beh, ormai giunti al 24 di giugno, è la clessidra, no? È lì, è lì, è lì, il contratto scade il 30, come vi ho raccontato appunto a proposito del credo crescita, alla Juventus posta poco che poi eventualmente lui firmi un eventuale rinnovo superato il primo di luglio, però ci vogliono anche dei segnali che ti possano portare a immaginare concretamente che stia arrivando un sì e non un no. La conferenza stampa di Adrienne direttamente dal ritiro di Euro 2024 è sembrata un po' enigmatica, sibillina, cioè non avevamo la sensazione di uno pronto a rafforzare il suo matrimonio con la Juventus, sì, ok, l'elogio è Tiago Motta, però poi ha anche subito un distinguo, cioè Tiago Motta ha la sua carriera, io ho la mia e quindi tutti i ragionamenti sono aperti. La Juve non può aspettare in eterno, io credo che il tentativo sia stato fatto ed è ancora vivo perché l'offerta è sul tavolo. La Juventus ha proposto a Rabiot, non lo racconto da tre settimane, ma per chi se lo fosse perso, lo ribadisco anche oggi, un contratto di due anni con una sorta di più uno a verificarsi a determinate condizioni, quindi una sorta di triennale. ha le stesse condizioni perché comunque la Juventus manterrebbe i benefici del decreto crescita, non dimentichiamoci che Rabiot nell'ultimo anno per rinnovare ha avuto anche un aumento di stipendio arrivando a circa 8 milioni, quindi la Juve mi sembra che si sia sposta, che abbia fatto sentire un certo tipo di fiducia e anche di riconoscenza nei confronti di Rabiot. Perché parlo di riconoscenza? Perché uno mi può dire, ma che riconoscenza, alla fine questo, nell'estate 2023, ha firmato un rinnovo di un anno a rialzo. Sì, però la Juventus, ve lo garantisco, un anno fa non si sarebbe potuta permettere un calciatore migliore di Rabiot in termini di spesa, in termini anche di qualità, perché il giocatore, come tutti, può essere messo in discussione, ci mancherebbe, voi sapete che io non vada pazzo nella maniera più assoluta per il transalpino, però anche quest'anno non è stata sicuramente una stagione a livello della scorsa, ma lì, come dite voi, bravi, Adrienne aveva overperformato, soprattutto in termini media realizzativa, quest'anno ha fatto una stagione da 6-6,5, ma la Juventus comunque non poteva permettersi un profilo migliore. Ora il discorso è cambiato. Il discorso cambia, perché la Juventus, sappiamo, tra Turam e altri profili, come abbia già delle idee alternative, ma prima di eventualmente salutare definitivamente Adrienne, aspetta che questo passaggio arrivi dal diretto interessato, che dia una risposta, tramite magari anche la mamma manager. Tantimente chiesto, ma se non ci fosse stato Tiago Motta, che con Rabiot ha un ottimo rapporto, perché hanno giocato assieme al Pari, perché lo stima dal punto di vista tecnico-tattico, la Juventus gli avrebbe formulato un'offerta? Eh, questa è una bella domanda, probabilmente no, ma questa non è la notizia, la notizia è che l'offerta è ancora viva, 2-1, e che la Juve attende la risposta. Ragionando, da mantere calcio, magari no, magari questo tentativo è stato fatto proprio perché Tiago Motta, consolidando determinati punti dei quali ripartire per costruire la stagione 2024-2025, abbia detto a Cristiano Giuntoli, proviamo a tenerlo, questo è un giocatore forte, un titolare nazionale francese, uno che ha esperienza, proviamo a tenerlo. E quindi credo che anche in questo caso la Juventus sia seguendo le indicazioni di Tiago, poi una società deve ragionare sempre con la sua testa, perché credo che l'allenatore debba avere voce in capitolo sulle caratteristiche, non tanto sui nomi. Quindi ormai siamo agli sgoccioli, siamo agli sgoccioli e speriamo che arrivi il prima possibile questa risposta, o che comunque anche la stessa Juventus eventualmente poi decida di andare su altre strade. Devo dire che per come ha avviato il mercato questa sessione Cristiano Giuntoli sicuramente non si farà cogliere in preparato, quindi avrà già in testa più cose, avrà già eventualmente idea di come sostituire il Rabiò con un profilo che possa essere futuribile, lo so, e ve l'ho anche detto, il nome che più vi gasa è quello di Turamo, un nome che la Juventus segue da tantissimo tempo, e vedremo se verranno formulate offerte ufficiali in direzione inizia per un calciatore che va in scarenza il 30 giugno 2025 e che ha già comunicato al suo attuale club di non voler rinnovare. Quindi l'aspetto contrattuale potrebbe rivelarsi il più grande alleato della stessa Juventus. Poi, per coloro che mi stanno chiedendo, ma eventualmente Copmanners alternativo Turam, ma magari può esserlo per una questione di costi, ma a livello tecnico-tattico non c'entrano niente l'uno con l'altro, perché immaginiamo questa sorta di 4-2-3-1 della Juventus. Se dovesse arrivare Copmanners non sarebbe il play in mezzo al campo, perché in mezzo al campo giocherebbero Douglas, più se dovesse rimanere Rabiò, se c'è Locatelli, c'è Maggioli, il Turan di turno e Copp, lì mi sembra che sarebbe sprecato. Un giocatore più da fase offensiva, perché ha gol, perché ha assist, perché ha tiro, perché riesce anche a collegare sapientemente il centrocampo all'attacco. Quindi, secondo me, a livello tecnico-tattico la risposta è no, non sono alternativi. Poi bisogna essere bravi a fare in modo che si riesca a ottenere il giusto gruzzoletto per presentarsi all'Atalanta e portare via eventualmente un giocatore che alla Juventus, e ve lo ribadisco anche in questo lunedì, ha dato totale gradimento. Quindi la Juve ha appeal, molto appeal. Ha avuto appeal nei confronti di Douglas Lewis, ha avuto appeal nei confronti di Gregorio che aveva delle importanti offerte dalla Premier. Ha appeal con Copmanners che alla Juve ha detto di sì. Ha appeal con Calafiori che mi risulta che la Juventus abbia detto di sì. Quindi, anche sulla volontà dei calciatori, la Juve può fare gioco, può lavorare. Io credo che poi vedere una Juventus che inizi a fare determinate cose interessanti sul mercato, una Juventus che prende un allenatore moderno, questo sposta, possiamo anche, poi magari vivremo un grossissimo fallimento e sarà una grossissima illusione, ma oggi aver preso Tiago Motta per i calciatori che vogliono relazionarsi con un certo tipo di gioco è un boost, è un qualcosa in più in serie di negoziazione. Non è infatti un caso che questi calciatori comunque tutti stiano dicendo di sì. E non è perché solamente ti chiami Juventus e magari vai a prendere più soldi. Sì, questo ci sta ed è anche una partita che si disputa sul campo centrale. Ma anche il contorno, perché credo che Copmanners potrebbe lasciare l'Atalanta per andare in Premier, per andare nella Liga, per andare magari in Ligan, per andare in Mundesliga, Calafiori, stesso discorso. Quindi la Juve sta dando segnali molto forti a livello di idee chiare e di compattezza. Ovvio che immaginare che arrivino proprio tutti e tutti è un'idea ambiziosa, ma la cronaca ci dice come la Juventus a fuoco lento continua a lavorare su Copp, continua a lavorare su Calafiori, attendendo che poi finisca Euro 2024 per il centrale del Bologna. Insomma, la barra è molto dritta e le linee guida che analizzavamo assieme un mesetto fa sono entrate nel vivo proprio in fase di acquisizioni, perché Douglas Lewis e Di Gregorio sono due operazioni chiusissime a tripla mandata. Se vi è piaciuto questo video lasciate il vostro like, attivate la campagna delle notifiche, iscrivetevi al canale, ci stiamo allargando, stiamo crescendo, questa community di qualità. Io vi voglio carichi, perché poi bisogna avere anche energia, no? Vivere insieme quotidianamente le dinamiche di casa Juve, che spesso e volentieri negli ultimi tempi sono state abbastanza complicate, ma si intravede la luce in fondo al tunnel. E quindi cresciamo tutti assieme.